Purtroppo il 40% degli incidenti mortali e con lesioni gravi interessa una fascia di età che va dai 18 ai 24 anni e per questo motivo che questi progetti hanno la loro funzione di rendere responsabili i ragazzi come nuovi utenti della strada, neopatentati. Si chiama ABC ed è il progetto didattico di A22 e Polizia Stradale, entrambe in prima linea quando si parla di prevenzione e formazione in tema di sicurezza. Un particolare occhio di riguardo viene rivolto alle nuove generazioni. Da numeri che erano vicini alle 40-50 persone all'anno, oggi perdono la vita sull'autostrada del Brennero 4-5 persone l'anno negli ultimi anni. Vuol dire che tanto lavoro è stato fatto in ambito di sicurezza passiva, ma il lavoro grande viene fatto anche a livello di formazione, di informazione e soprattutto di investimento sui giovani, sui ragazzi. È fondamentale entrare nelle scuole, avvicinare i giovani perché insegnare loro quanto è importante, far capire quanto è importante il rispetto delle regole in generale, la cultura della legalità e quanto è importante rispettare il colcio della strada è uno dei compiti della Polizia di Stato, soprattutto della Polizia Stradale che è una nostra specialità.